Ciao a tutti, ora prenderò un video che comunque molte volte chiedono le persone ormai perché è successo questo casino appunto come avrete letto qua sotto. Vi parlerò della storia di Martina Francio, ovvero quello che è successo. In pratica molte persone dicevano che lei fumava e che fino a qua ci stava, poi però hanno visto magari male oppure hanno visto bene però Martina non lo vuole ammettere. Dicevano che era una canna, però era molto strano, non ci credevo neanche io sinceramente, però con tutte queste voci mi hanno un po' confuso e non saprei neanche io a chi credono. No, che era una sigaretta, ok, però la canna ci stavo anche credendo io all'inizio. Solo che molte voci si sono iniziate a spargere, alcune fanpage di Martina Francia, comunque hanno messo nelle storie la foto di Martina che fumava, una sigaretta normale e altre una canna. Martina ha fatto una live dove spiegava comunque che lei ora non gliene frega più niente delle persone che la criticano, delle fanpage non gliene frega niente. E quindi Martina ha deciso di bloccare le fanpage, ne ha bloccate due, una veramente bellissima che ci tiene un sacco, è andata anche all'ospedale per lei e un'altra che non conosco molto bene però è anche quella molto bella. Sinceramente, non so perché, ma comunque se loro l'hanno fatto e hanno detto Martina speriamo che non lo fai più, cose così, è perché ci tengono veramente, non perché sono delle egoiste che non tengono, perché non l'avrebbero mai fatto. Se no, se non lo tenevano, gli dicevano parole un po', cioè tipo, non me ne frega niente di te, fa quel cavolo che vuoi, fai schifo, cose così, ma loro invece no, cioè gli hanno detto proprio, Martina ti prego non fare, non esagerare, anche cose così. E poi però quando ha bloccato la fanpage, è andata in ospedale e poi alla fine la fanpage, che non mi ricordo il suo nome, ragazzi, giuro, non mi ricordo il suo nome. Vabbè, comunque è andata all'ospedale e perde controlli perché, cioè, vedere che il proprio idolo la blocchi è bruttissimo, cioè è una cosa... molto inspiegabile, ma... Ok, cioè, era tutto qua, cioè, però la cosa più brutta appunto è quello che ha fatto Martina Prance, cioè io non me lo sarei mai aspettata che avesse bloccato una fanpage e io comunque se mi avessi bloccata a me ci sarei stata veramente, veramente malissimo se fosse stata Iris al posto di Martina, però per fortuna Iris non è così. E niente, questo era solamente un video per spiegare bene cosa era successo a Martina Prance, quello che era successo alle fanpage e niente. Grazie per avermi ascoltato se l'avete fatto e niente.